Secondo voi è possibile capire il carattere di una persona analizzando il modo in cui dorme? Sembrerebbe proprio di sì, o almeno è quello che un professore londinese a capo di un centro di ricerca del sonno ha affermato con assoluta certezza. Pronti per scoprire chi siete per davvero? Numero 1. Posizione fetale. Secondo una statistica, circa il 41% della popolazione mondiale dorme raggomitolata su di un fianco, proprio come fanno i bimbi nella pancia della mamma. Chi predilige assumere questa postura è in generale una persona che ha bisogno di protezione, di sentirsi apprezzata e coccolata. Sono le donne quelle che più spesso dormono raggomitolate. Principalmente sono timide, apparentemente dure, ma dal cuore tenero e dall'animo gentile. Un po' come un tronchi. Numero 2. Posizione stella marina. Circa il 5% delle persone ama dormire a pancia in su, con le braccia e le gambe aperte. Secondo questo studio, si pensa che chi prediliga questa postura a letto sia una persona altruista, ma allo stesso tempo molto timida. Non ama stare al centro dell'attenzione, ma non riesce a fare a meno di aiutare il prossimo. Inoltre è molto propenso a stringere amicizia con gli sconosciuti, permettendogli di entrare nella sua vita. Numero 3. Posizione del tronco. Qui siamo ad un bel 15% di persone che adottano questa postura durante la notte. La posizione del tronco consiste nel dormire su di un fianco, con le braccia e le gambe distese e non piegate. Dormire in questo modo è un'abitudine caratteristica delle persone molto fiduciose verso il prossimo. Alle volte anche troppo, tanto da essere ritenute ingenue e credulone. In compenso però sono persone molto estroverse, che amano stare in mezzo alla gente e socializzare con chiunque. Numero 4. Posizione del soldato. No amici miei, non sto parlando di una posizione sessuale. Circa l'8% della popolazione dorme a pancia in su, con le braccia distese sui fianchi. Se dormite in questo modo, in teoria, siete delle persone molto educate, riservate, silenziose e che non amano particolarmente le follie estreme. Avete molta autostima in voi, ma siete anche severi e rigidi con voi stessi. Insomma, volete sempre dare il massimo e nel miglior modo possibile. Numero 5. Dormire a pancia in giù. Ok, molte volte capita anche a me di dormire a pancia in giù. E finalmente posso capire cosa vuol dire. Dormire in questo modo denota una personalità precisa e meticolosa. Per farvi un esempio, guai a lasciare una bottiglia d'acqua frizzante aperta. In più, una persona che dorme in questo modo è spesso permalosa e suscettibile, particolarmente nervosa e che non accetta le critiche. Numero 6. Posizione del cercatore. Se invece dormite su di un fianco, ma con le braccia leggermente piegate e rivolte davanti al vostro viso, come se state cercando qualcosa, rientrate nel 13% della popolazione ritenuta sospettosa, cinica e diffidente verso il prossimo. Insomma, tipo Dr. House. Prima di prendere una qualsiasi decisione, ci pensate e ci ripensate per giorni. Ma quando finalmente sceglierete il da farsi, nessuno vi farà cambiare idea. Numero 7. Posizione della mummia. E ora una posizione speciale, che solo in pochi adottano per dormire. La mummia, ovvero chi si avvolge totalmente nella coperta quando va a letto. Molto probabilmente stiamo parlando di persone che cercano di nascondersi dal mondo e che temono il confronto con la vita, rinchiudendosi nel proprio universo. Questa posizione esprime paure molto profonde ed inconsce e viene usata spesso dalle persone molto timide, introverse e solitarie. Numero 8. Posizione dello struzzo. E quante volte vi sarà capitato di dormire con il cuscino sulla testa? In questo caso si parla di una posizione ancora più rara, ovvero quella dello struzzo. Chi usa spesso mettere la propria testa sotto al cuscino è con molta probabilità una persona che vuole chiudere fuori dalla propria vita lo stress e i problemi che la affliggono. Una specie di fuga dalla realtà. Numero 9. Piedi penzolanti. Se per caso siete tra quel 0,1% della popolazione mondiale che adora addormentarsi con i piedi fuori dalle lenzuola sappiate che siete delle persone che non vogliono legarsi troppo agli altri. Probabilmente non vorrete nemmeno sposarvi o mettere su famiglia. Non vi piace il posto fisso al lavoro e nemmeno la scuola. Siete degli spiriti liberi che amano l'avventura e che vogliono vivere di adrenalina. E per finire numero 10. Posizione a catena. Se in qualunque posizione voi dormiate tenderete ad accovacciare le gambe o i piedi incrociandoli potrebbe stare a significare che vi sentite spesso e volentieri bloccati in una situazione che a voi non piace. Prigionieri di qualcosa. In catene per l'appunto. Magari state vivendo in un momento della vostra vita particolarmente opprimente. O magari siete delle persone ansiose. In ogni caso vi consiglio di trovare un vostro equilibrio e di sciogliervi un po' come una zolletta di zucchero dentro ad una tazza di cioccolata calda. Ehi ehi ma non scappare! Lascia un bel mi piace. A 10.000 like porterò un altro video sul sonno. E ricordati di commentare scrivendomi se anche tu dormi in una di queste posizioni. Un mega salutone dal vostro Dr. Vendetta di fiducia e ci vediamo come sempre al prossimo incredibile video!